Gesù rivela la guerra sta per dilagare in tutta Europa. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un messaggio abbastanza inquietante che Gesù ha dato ad una suora. Questa suora è stata dotata da Gesù del carisma della guarigione dei malati come anche del carisma della bilocazione cioè della capacità di trovarsi in due posti contemporaneamente e della capacità di predire gli eventi futuri e di leggere nei cuori. È una suora che viaggia in tutto il mondo mettendo a disposizione di tutti la sua capacità di poter guarire gli ammalati. In un video successivo vi parlerò in maniera diffusa di questa suora che ha questi carismi così straordinari tenendo però a precisare che nel caso di malattia bisogna sempre seguire l'iter della consultazione dei medici e seguire scrupolosamente tutto il protocollo di cure che i medici indicano al paziente a seconda di quella che è la sua patologia e che per quanto riguarda gli incontri con i carismatici come possono essere questa suora e tanti altri dotati dei carismi di guarigione questi incontri devono essere un qualcosa di più che uno aggiunge alla terapia suggerita dai medici quindi prima si sente il parere dei medici e si segue la terapia dei medici ed in aggiunta poi si incontrano i carismatici dotati del appunto del dono delle guarigioni e questo credo che sia un messaggio molto molto importante perché le cure tradizionali della medicina non vanno mai trascurate ora qual è che cosa ha rivelato Gesù a questa sua ora che è dotata del carisma delle guarigioni che viaggia in tutto il mondo proprio per metterlo a disposizione di tutti gli ammalati Gesù nel dicembre del 2022 ha detto a questa sua ora figli miei carissimi quando mi leggerete vi consiglio di fare sempre il segno della croce prima di iniziare la lettura così allontanate da voi i miei nemici i demoni a cui non fa per niente piacere che voi leggiate questo messaggio ora figli miei carissimi voglio parlarvi della fine dei tempi sì siete arrivati a questo momento e dovete esercitare nella vostra anima una grandissima fiducia nel mio potere onnipotente io figli cari controllo tutto sì assolutamente tutto e se vi sembra di essere abbandonati da me sappiate nel profondo della vostra anima che non è così vi proteggo anche nella prova siete miei e non vi abbandonerò mai nei primi secoli ci furono moltissimi martiri che furono saldati alla loro fede alla mia onnipotenza e con la mia forza poterono sopportare grandissime sofferenze ora sono alla mia destra in cielo il che significa che sono in una felicità indicibile e non si pentono un solo momento del loro martirio siate anche voi figli cari totalmente ancorati alla fede solidi come una roccia e buoni come il vostro signore e come la vostra madre celeste noi vi coccoliamo vi amiamo e non mancheremo di darvi tutte le grazie necessarie per vivere i durissimi tempi che verranno questa volta sarà dura i vostri governanti stanno preparando il disastro come se fosse inevitabile mentre lo stanno creando loro stessi dicono bianco e dicono nero e voi sarete le vittime a figli cari il mondo attuale è così cattivo le le leggi sono così cattive che dio è rifiutato e persino odiato e le sue leggi sono sgradite e denigrate mentre la dannosità di tutto ciò che attualmente inventano getterà l'intera terra nel precipizio e nella follia omicida vogliono rimediare alla loro corruzione alla loro avidità fomentando la guerra perché la guerra permette di far funzionare le industrie degli armamenti e in caso di distruzioni massicce la guerra permette di ricostruire e di riqualificare quando un'economia in bancarotta la guerra permette di rilanciarla e gli uomini sono così assorbiti dalla loro sicurezza e da quella dei loro parenti stretti che ogni manifestazione del loro malcontento viene messa a tacere quindi sì figli cari la guerra è alle porte dell'europa i vostri governi la vogliono e la otterranno e voi figli miei confidate sempre in dio pregate e non lasciatevi sopraffare dalla paura la paura istintiva ma dovete dominarla perché la vostra fiducia in dio deve essere più grande della paura cosa vi accadrà lo vedrete col passare dei giorni non vi rivelerò il calendario ma dovete lasciarvi condurre dalla mia divina provvidenza vegliate figli cari e pregate siate come le vergini sagge della parabola evangelica erano pronte e provvide anche voi siate pronti in stato di grazia e risoluti a rimanere fedeli e caritatevoli quando l'occidente sarà in subbuglio perché la guerra si espanderà in tutta europa voi vi precipiterete nei negozi di alimentari per fare scorta di cose e cose senza pensarci troppo ma con un senso di urgenza ma cosa posso dirvi se non che un simile atteggiamento è irragionevole cosa dovreste fare preparare alcune disposizioni sì ma questo deve essere già fatto ve lo consiglio ma non esagerate prendete ciò che può essere immagazzinato forniture stabili e sempre accessibili ma ripeto non esagerate poi continuate la vostra vita quotidiana aiutate i vostri cari e pregatevi riunitevi con i vostri vicini e ogni giorno pregate insieme semplicemente la preghiera del rosario a figli cari niente più forte del rosario distribuite medaglie miracolose e anche la medaglia di san benedetto patrono d'europa la medaglia della madonna miracolosa e poi continuate con il vostro lavoro con le vostre attività abituali siate più figli miei siate caritatevoli siate in stato di grazia e infine non abbiate paura avevo paura prima della mia passione delle mie stazioni della via crucis no figli cari non avevo paura sapevo che avrei sofferto e che sarebbe stato molto ma molto difficile ma paura no io dominavo questo istinto di conservazione dei viventi consegnavo tutto al mio padre celeste volevo solo la sua volontà qualunque essa fosse e che essendo dio conoscevo perfettamente ero deciso a salvare l'umanità ad aprire il cielo agli uomini i miei fratelli caduti nella terribile sventura del peccato e quella sola era la mia meta da non mancare e da non evitare questa guerra che dilagerà ovunque nell'europa occidentale sarà dura figli cari e molte profezie lo hanno svelato già da ora posso dirvi che parigi sarà bruciata marsiglia sarà inghiottita roma sarà distrutta e la santa sede sarà svuotata come sarà fatto tutto questo come in ogni guerra l'odio ne farà parte e causerà tante inevitabile ingiustizie la guerra figli cari è il regno di satana che gode di ogni male che in essa viene impiegato non fatevi influenzare figli miei certi grandi generali cristiani si sono comportati bene in tempo di guerra non hanno ammesso i colpi bassi hanno rispettato i loro nemici e sono stati da loro stessi rispettati la carità non è collaborazione con il nemico la carità è sempre nobile e nell'orto degli ulivi al mio arresto io guarì con la carità l'orecchio reciso di malco il servo del sommo sacerdote siate caritatevoli anche voi non abbiate rabbia in voi stessi verso i vostri compatrioti o verso i nemici del vostro paese siate soprattutto figli del vostro dio vivente che mai si lascia dominare dall'ira poi quando sorgeranno grandi pericoli all'interno della vostra patria offrite tutte le malversazioni che potete subire in unione con la croce redentrice e per l'intenzione della conversione dei vostri carnefici sì ogni uomo è chiamato a conoscere ed amare il signore gesù cristo suo dio e suo maestro suo amico anche ma amico superiorissimo e sempre di buonissimi consigli sarò con voi in questo tempo di grande prova che sta arrivando non ignoratelo non dimenticatelo non denigratelo figli cari elevate le vostre anime a dio pregatelo incessantemente e la mia mano vi proteggerà da ogni apostasia conscia o inconscia io figli cari sarò con voi e per sempre fino alla fine del mondo vi benedico figli cari nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen il vostro divino maestro e tenero amico gesù grazie a tutti